Allora, Ogrin OP build Oh, quel respiratore piace, vedo Cioè, perdi del tempo a farti il volto e poi c'è il respiratore che te lo copre Vero, vero Team, team, vido bene in vista Ma io, 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 io non sono di quel team in questo momento, però Ma in realtà, quindi anche tu, non puoi, non puoi Vabbè, vabbè, solo con lei, però Io non sono giusto perché ho l'unica faccia decente No, a parte l'Asiatica Mi ha, mi ha, mi ha, mi ha anche finito un download Forse potrei, potrei non laggare in quest'ora Forse Ho, ho sentito un effetto sonoro in sottofondo Nel caso di un'impiacere qui, oh No, la Valpadana No Esatto No Che sto posto Tipo La minaccia Tipo Sconfiggi i terroni che stanno per il padre Devo dire No 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 Di No No Lo L'ho visto proprio regredire al suo istinto di cane, nooo! Non di Nargol proprio E effettivamente non ci penso, quelli non sono cani normali Ma hai cani mutati? Beh ma c'hanno anche cani domestici C'hanno anche anche a cavale Non mi ricordo Se non sbaglio L'imperial guard c'ha Delle unità a cavallo No, cavallo, cinofila ora me lo ricordo Però l'unità a cavallo ce l'ha Guarda quanti stack di blood aveva il coso E che è morto? Dove e perché? No, c'ho il cane ma mi sa che voi siete scesi Quindi No, peraltro bisogna fare molta attenzione Alla demo nostra Dove lì? Che è stata grata da non so chi Da quell'altro Un nostro amico Perché sono morto Beh, siamo morti in due E lei sparisce infatti Vedo davanti a te l'ho detto che c'hai Una scufata una tata di gente Dai vai C'è Daniele Ciao Ci si Posso restare da qui sotto? Ehm Clipping Posso iniziare a toccarti da sotto? Lo so Non ho fatto scudo e devo dare sacci Non ho fatto scudo e devo dare sacci Non ho fatto scudo e mi vede Daniele Si sono andato a ammazzare tutti perchè sono morti Oh Siamo in due ognuno fa una cosa Io mi sono... Oh ma infatti è benissimo Io mi immagino, tipo, il personaggio che viene, appunto, restato, liberato dal tuo, nel mentre c'è dietro Daniele che viene sbattuto a destra e a sinistra da, tipo, gli bulwark, colpi di shotgun, viene lanciato da una parte o'altra della stanza, nel mentre siamo noi, che fa, oh, com'è? Ciao, sì, tutto a posto. Oh, aspetta. Mi piace la polla. Madonna, che mira. Oh, un ascensore con delle luci rosse. Ammo! Ammo per Agile. Come sto sotto la luce rossa? Eh, molto pornografico. Sì, porno. Perché, perché spreco le granate, se siamo in quattro, vabbè. Ma poi, ma poi con quello. Ammo! Ma non è un nemico, quello. Ah, no, è un pezzo di console. Bello, ho fatto due headshot a una console. Eh, come fa a fare un headshot a una console? Ha fatto un console shot. Eh. Un cpu shot. Un monitor shot. No, ma, no, allora, no. Il corrispettivo dovrebbe essere cpu shot. No, aspetta, no. Eh, no. Dipende... Se lo intendi come parte anatomica o parte di controllo della... Eh, che no, secondo me cpu shot è l'equivalente, che è lì, che è quello, il critico, diciamo. Il corrispettivo dovrebbe essere cpu shot è lì, che 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 è lì. Vado, 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 vado. Vai, per? Ah, no. Ah. Vai. Allora, io gioco due classi su due canon perigli. Che mancava come un meccanico? Lo, lo green, no, non ha neanche un perigli. Neanche la zero. Di nuovo, va che cazzo? No, 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 non è il problema. Fa un culo. Oh, lui, ci ho capo oltre, grande! Oh, lui ci ho capo oltre, grande! Oh, lui ci ho capo oltre, grande! Pa, va che cazzo! Ma, va che cazzo! Allora, cosa vado? Allora, nel nostro agravanata il cazzo! Una simulata, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima. Eh, l'altra no però. c'è troppo gente sta provando lui sta provando lui tutti ce l'ha fatta si è dato i 3 maude quando ci si è messo e si è ridotta questa è mia eh sei morto di botte perché la canata è mia che c'è vai tutto manca poco poco dovrebbe andare che c'ho il tempo della registrazione che è esattamente lì sopra qui ci sono delle ammo lorenzo che ti servono si le ammo nooo nooo no via ho sbagliato dei colpi ho visto lui è un veteran che non gioca a plasma meno male ma ancora basta ma la che è scomparsa conta come mostruositi uccisa no no non l'abbiamo uccisa quindi quindi non conta non è che scompare e te la segna come è morta no no che sarebbe troppo bello per la missione questo che cosa c'era fanno le quattro le abbiamo fatte quattro le no fanno le sei ma ehi oh che cazzo ma dove sei uscito te fortacce tuo wow che lui l'ha abbastanza short lascia c'era anch'io qua oh non ti spostare la tua mamma maiala che cosa c'era che cosa c'era l'ho che cosa c'era la musica no no ma ci sono dell'ambo no ah 4 arrivo siamo una ma ci sono due crimori uno accanto all'altro c'è un crimore qui c'è una medical station beh io ho un crimore l'ho preso dovevo prendere anche l'altro si si dai è facile la medical station Ivan 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 hai entrato abbiamo due micro mori ah bello moriremo adesso no tra l'altro di crimori a dar algar è presente già la mappa dopo ah bello che ci devo fa allora non vabbè perché c'è tanta gente che sta tornando indietro ohhh merda 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 mamma mia no non ce l'avevo di morire la tazza di gunner e la raggi in fondo cazzo è successo oh con lui ah ce l'ho vivo si è venuto algar il messaggio madonna che palle guarda demonostra guarda demonostra ah c'era pure il demonostra attenzione attenzione perché lì è pieno eh perché ho dove sparate cosa sparate e perché sparate a non ho riscatto veramente tanto fino era finito non buccate sull'erba chi sicura tra me l'edette ivan vai 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 grazie le granate non so chi di voi le usa, qui ci sono delle ammo è un combat steam ma le ammo ma questo lo prendo io c'è un trapter non ce la posso fare non ce la posso fare la stessa lì si 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 sempre le stesse go up decisamente meglio se ti curavi tu è proprio che mu... tanta gente bello i due con un corpo vieni vieni amore battendo la testa contro la panchina boia è una brutta morte nonna c'è me è spawnato davanti praticamente ho due gunner davanti aspettate un secondo aspettate perché basta basta ok ok escezo escezo escezzi della roba da raccattare qua ci sono delle ammo aspetta ma qui intorno ma tanto cazzo è bello il revolver bello il revolver ragazzi vieni amore è un gioco vieni amore se vieni amore vieni amore vieni amore vieni amore ma ti puoi afferdo ? cosa c'è qui? le amo o no le amo non sapele nessuno come si arrivo ah ok, go 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 c'è un trap i fatti sopravvivere questo è un planeto di makers ok, dai che siamo sgravissimi ci siete due sgravissimi poi, io iban ah, non so se avete visto il modificatore ci ho fatto caso ora c'è ventilation purge meglio di cosa sia ora riduce la visibilità ah, ecco perché siamo padania io pensavo fosse il pp della liga magari il boss è il trota esiste sempre il trota c'è lo sniper oh mamma, tanta gente ma che nemmeno di da il cazzo 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 in cazzo è successo? no aspetta errico no no, fa tutto da me fa tutto da me non so bene dove hai il boss? dietro di me vede le fiamme oh ma perchè cazzo eh quando spara così è un casino ah devi riparare cioè specialmente proprio ti poi i bombi li ho tirato bello attenzione che spara, spara, spara attenzione out there oh ma c'è un altro oh ok non ti possiamo arrestare però sono io che sto, non meno io nel mio schermo vedo me che sto eh fantasma, fantastica sta cosa che poi anche se cioè nella posa c'hai fuscite Donenzo è vero hai ragione è bugata si hai ragione ciao a tutti